Questo è un vaso. Come potete vedere è vuoto. Così siamo noi. Siamo dei vasi vuoti. Vogliamo riempirlo di acqua. Ora il vaso è pieno, completamente pieno di acqua. Oltre non si può andare. Ma se io faccio sgorgare fiumi di acqua dentro il vaso, succede questo. Giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Penso che ci sia un bel po' di differenza. La differenza. Grazie.